Ivan Basso è sempre bello correre nel ricordo di due miti come Coppi e Bartali Ovviamente è bellissimo, non serve dare spiegazioni, sono due miti di questo sport ma due miti per l'Italia intera, non solo del ciclismo, di tutto lo sport in generale Non solo Basso, non solo la Canada ma tutti i ciclisti sapranno onorare questa corsa al meglio dal primo all'ultimo giorno